23 dicembre 1995 Viene ucciso dalla mafia l'agente di polizia penitenziaria Giuseppe Montalto Ha prestato servizio prima nel carcere delle Vallette a Torino e poi a Lucciardone di Palermo nella sezione detentiva per soli mafiosi Ad assistere all'uccisione la moglie dell'agente e la loro bambina di 10 mesi Sarà accertato che la colpa di Montalto è stata quella di aver intercettato e sequestrato un foglietto fatto arrivare in carcere ai boss Mariano Agate, Raffaele Ganci e Giuseppe Graviano Grazie a tutti